Eccoci con Mr. Perlo, si senti un po', oggi ho visto una squadra molto carica, quanto c'è di merito il tuo, questo o dei ragazzi? Ma i ragazzi hanno giocato bene, sono stati più bravi loro, però penso qualche occasione la troviamo sfruttare molto meglio. Cosa hai visto che ti è piaciuto della squadra e cosa ancora devi migliorare? Devi migliorare parecchio le posizioni, i passaggi e i tiri sottoporta devono tirare fatto bene, raso terra. Magari di prima intenzione, di prima intenzione senza portare troppo il pallone, che sono innamorati, troppo a PlayStation. Velo, vero. Senti, l'ultima domanda della faccio, sei anche alla prossima partita? Ti troviamo qui con loro? Se non mi sono così. Perfetto, allora, grande vista.